Oggi vi presentiamo un altro cottage. Siamo molto vicini al centro scistico di Ruka. Siamo in un centro dove ci sono vari cottage. Quello che vi presentiamo è quello che abbiamo alla nostra sinistra. Veramente un magnifico cottage fatto in chelo, quindi tutto fatto in tronchi. La particolarità di questo cottage sono gli usi degli spazi, la possibilità di essere utilizzato da famiglie. E' più facile capire entrando. Il cottage ha un'anticamera invernale per proteggere la casa dal freddo. Uno può entrare mantenendo sempre la porta chiusa. Togliere le scarpe è una cosa che si fa sempre. E abbiamo nella stanza prima di entrare l'esticatore. Qua dentro si mettono i vestiti umidi della giornata in maniera da avere il giorno dopo sempre vestiti asciutti e caldi per essere utilizzati. Questa è una cosa molto importante quando si viene in vacanza in inverno. Entriamo in casa. Apriamo la successiva porta. La casa è fatta tutta in tronchi. Quindi avete tutti i muri e tutto quanto fatto il tetto fatto sempre ed esclusivamente di legno. Andiamo iniziamente nella zona living. Guardate che spettacolo. Abbiamo la nostra zona giorno con il divano, il camino, faccio vedere tutta la parte superiore, il condizionatore dell'aria, le finestre come ho detto in altri video sono sempre molto grandi e luminose. Abbiamo la zona cucina. Guardate che spettacolo. Il tavolo per cinque o sei persone. La zona cucina è tutta nuova. Come vedete abbiamo tutti gli elettrodomestici. Massima qualità. Abbiamo il frigorifero. Un'altra cosa che è importante quando si viene in Finlandia è che tutto lo trovate sempre con la massima pulizia. Noi stiamo entrando in un cottage che poteva essere affittato pochi minuti fa a un cliente ed è esattamente come lo trova una persona che entra affittando questo cottage. Abbiamo tutti i tipi di accessori. Questa è un'estrema organizzazione e precisione. Vi devo far vedere una cosa. Ruotiamo perché di fronte al divano, quando vi sedete sul divano, guardate cosa c'è là sopra. Un mega televisore, non so se sia un 65 pollici, una cosa colossale a disposizione. Sotto c'è la comoda poltrona. Andiamo adesso a vedere com'è il bagno. Gli armadi, per poter lasciare le cose sempre in ordine. Ed ecco il bagno. La doccia in fondo, col doccione. Tutto perfettamente sempre nuovo. Abbiamo la zona WC e la zona lavandino. Tutto sempre con estrema organizzazione privacy. E poi il fatto di avere comunque la porta permette di poter utilizzare il gabinetto, anche se qualcuno sta usando la doccia o la sauna, sempre con la privacy. Perché ovviamente all'interno del cottage finlandese abbiamo anche la sauna. Anche in questo caso abbiamo la sauna elettrica. C'è anche in questo cottage un odore di legno incredibilmente piacevole. E questa è la doccia. usciamo dalla doccia e iniziamo a vedere le zone notte. Iniziamo con la camera a piano terra per i bambini. Per utilizzare gli spazi al meglio viene messo un letto a castello. Viene voglia di sdraiarcisi sopra perché proprio so proprio di camera da letto per i bambini. Accanto abbiamo invece la camera da letto diciamo padronale per i genitori. un magnifico letto matrimoniale. Finestra che dà sul bosco. Cassettiera superiore è un'altra cosa che voi troverete sempre. non vi mancheranno mai i cuscini e non vi mancheranno mai i piumini aggiuntivi da utilizzare. Casa fatta tutta in legno e come potete vedere non è legno lavorato. Questi sono tronchi. la bellezza del chelo è proprio che non è il tronco che esce dalla fabbrica ma è il tronco che si può trovare nel bosco. di fronte al letto un altro gigantesco televisore per rendere le serate sempre piacevoli. E poi abbiamo l'ultima chicca che è il soppalco. A proposito di legno guardate la bellezza di questo soppalco. anche se la luce spara un po'. Ricordiamo che i nostri video sono sempre fatti in maniera molto semplice e artigianale ma servono per farvi capire che cosa vuol dire affittare un cottage in Finlandia in maniera un po' più completa che da delle semplici anonime foto. Andiamo al piano di sopra. Si vede già un altro televisore. In questo cottage sicuramente si potrà vedere il televisore dove si vuole. E qui abbiamo un'altra zona. Notte. Se per esempio venite con tre o quattro bambini siete a posto perché li potete far dormire sopra. Ma se venite anche con solo due bambini avete la possibilità di far dormire un bambino nel piano di sotto perché a volte anche i bambini vogliono la loro privacy. E vediamo se riesco a farvi vedere. Invece la zona living dall'alto. Mi sono dimenticato di dirlo. Anche se si è visto. Abbiamo il camino. Tutto fatto in pietre. Un cammino del genere se lo accendete vi tiene calda la casa per ore e ore se non giorni. Quindi vi lascio sull'immagine del divano dall'alto. Questo è un cottage semplice nel centro del paese di Ruka. È un cottage che è in un complesso di altri cottage. È molto vicino alla stazione sciistica, molto vicino ai supermercati, molto vicino ai ristoranti. Quindi è semplice da... mentre vi parlo riscendiamo. È semplice da... come mezzi, è semplice come posizione. Ricordiamo che se volete rimanere aggiornati potete iscrivervi al nostro gruppo su YouTube dove posteremo pian piano tutti i gruppi... scusate tutti i filmati del gruppo. Ed ecco qui il cammino visto da sotto. Vi lascio ancora facendovi vedere la cucina. Venire in vacanza qui, come ho detto già altre volte, renderà la vacanza unica e indimenticabile. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.